Payday 3 è l'imminente sparatutto di Starbreeze Studios che vede parecchie novità che daranno un tocco di freschezza in più alla serie. In questo video troverete tutte le informazioni essenziali che dovete sapere, partendo dal gameplay alle novità che rendiranno l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Ecco tutto ciò che dovreste sapere prima di giocarlo suddiviso in 14 punti, ma prima di iniziare vi ricordiamo come sempre di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva e sul nostro sito videogiochitalia.it trovate l'articolo completo in forma scritta e tutte le novità su Payday 3 e come sempre buona visione. Payday 3 si svolge ben 8 anni dopo la fine di Payday 2. L'iconico roster si unirà nuovamente nel 2020 ma proderà a New York City. Un nuovo nemico comune minaccia l'attività illecite della banda di rapinatori e le loro vite e quindi è tempo di reagire prima che sia troppo tardi. Il gioco accoglierà nuovamente Dallas, Changs, Hoxton e Wolf. Tuttavia è stato annunciato anche l'arrivo di due personaggi femminili, Pearl e Joy. Possiamo anche notare una nuova ambientazione, un magazzino in Port Jersey in cui vediamo all'opera una new entry specifica, Ice-T, celebre rapper che ha stretto una collaborazione con Starburst Studios. Il gameplay conserva tutte le sue dinamiche principali, quindi dovete pianificare la rapina nei dettagli, scrutare ogni singolo dettaglio e valutare come utilizzarlo a vostro vantaggio e soprattutto non farvi beccare. Una volta ottenuto il bottino dovete raggiungere il furgone parcheggiato in una zona nascosta e caricare la refurtiva. Il gioco è strattamente incentrato sulla collaborazione che vogliate giocare in compagnia di sconosciuti o di amici. Il multiplayer è un aspetto fondamentale di Payday 3. Starburst Studios ha confermato che il gioco avrà sia crossplay che cross progression. I più solitari potranno anche godersi l'esperienza da soli, ma attenzione però è richiesta una connessione online permanente. Abbiamo provato il gioco in close beta e potete saperne di più sull'articolo leggendo il nostro articolo dedicato. Molti giocatori hanno spesso lamentato l'assenza di una vera e propria modalità stealth, data l'eccessiva presenza di attacchi a orde. Questa volta però il team ha lavorato duramente per rendere l'esperienza ancora più realistica e adrenalinica. È presente una nuova fase chiamata modalità di ricerca, seguita da altri eventi a catena. Se la sentinella scopre qualcosa di strano inizierà per lustrare l'aria. Non farsi beccare significa far tornare la sentinella nella posizione iniziale. In caso contrario inizierà una nuova fase, la negoziazione. Potete infatti sfruttare gli ostaggi per guadagnare tempo prezioso, ovviamente collaborando strettamente con i vostri alleati. Le armi overkill fanno parte di una nuova meccanica che renderà l'esperienza di gioco ancora più divertente. I membri della squadra potranno ottenere armi ad alta potenza per un tempo limitato, e questa è solo una delle novità di gameplay di Payday 3. A proposito, conosciamo già la lista delle armi presenti e quindi ve le lasciamo a schermo. Payday 3 presenta alcuni sistemi di accaraggio che saranno indispensabili per l'esperienza di gioco. Dovrete quindi trovare la combinazione di una cassaforte o sbloccare una serratura completando alcuni minigiochi. Spesso non dovrete fare altro che cliccare un tasto al momento giusto, mentre in altri casi dovete scervellarvi e trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. La collaborazione, come sempre, è di vitale importanza, ma per fortuna l'ottimo sistema di ping permette di comunicare anche senza l'utilizzo della chat vocale. Sono presenti anche nuovi buff e modificatori della sicurezza privata che cambiano ogni settimana grazie a sfide aggiuntive, le quali prevedono la presenza di una sentinella extra e dispositivi più difficili da hackerare. Gli iconici assalti a orde sono presenti anche in questo caso, soprattutto nei momenti finali in cui sarà necessario scappare a gambe elevate. Preparatevi quindi a scatenare il caos con le vostre armi, dato che si presenteranno guardie e forze dell'ordine sempre più forti e letali. I poliziotti nemici saranno pronti a crivellarvi di colpi e alcuni potrebbero addirittura uccidervi in un solo colpo. Come avrete capito ci sono diversi cambiamenti sul gameplay in questo nuovo capitolo, che finiremo di vedere proprio in questo punto. L'albero dell'abilità cambierà radicalmente con lo schema caratterizzato da diverse linee orizzontali collegate a una certa classe. Potrete investire fino a 100 punti per riga, almeno all'inizio, dato che successivamente questi requisiti verranno adeguati. Questi punti possono essere distribuiti a proprio piacimento e annullando gli aggiornamenti precedenti. A schermo intanto potete vedere le abilità principali. Vi lasciamo a schermo anche l'elenco dei gadget disponibili in questo nuovo payday. L'altra novità è legata al key blocks, dato che possono essere acquistati da settaggi, broker clandestino che vi permetterà di acquistare oggetti cosmetici unici. Vi ricordiamo che comunque, in base alla vostra esperienza, potete scegliere tra diversi livelli di difficoltà. Normale, difficile, incubo e overkill. Il gioco presenta un sistema season pass. Vediamoli i dettagli. Il season pass silver include i primi sei mesi di contenuti scaricabili, con due rapine, due pacchetti di costumi e due pacchetti di armi. Il season pass gold include il primo anno di contenuti scaricabili, quindi quattro rapine, quattro pacchetti di costumi e quattro pacchetti di armi. I prezzi sono relativi alle edizioni che vedremo tra poco. Vi confermiamo inoltre che il gioco include microtransazioni, ma si tratta solo di oggetti cosmetici. Un aspetto molto interessante è legato alla presenza di contenuti scaricabili. Il supporto post lancio del gioco prevede l'uscita di diversi DLC, contenuti all'interno del season pass, tra l'inverno di quest'anno e l'autunno del 2024. Trovate tutti i dettagli a schermo e vi aggiorneremo ovviamente con tutti i dettagli che verranno rilasciati successivamente. Il team di sviluppo ha annunciato che non userà De Nouveau. Per chi non lo sapesse, si tratta di uno strumento anti pirateria pensato per limitare la condivisione illegale di giochi appena pubblicati. Si tratta di una notizia che rende felici molti giocatori, perché pare che questo strumento peggiori le prestazioni di gioco e aumenti il peso dei file. La società tuttavia ha sempre negato che esistano problemi di prestazioni causati dal proprio software e lo aveva dichiarato proprio pochi mesi fa. Se volete giocare Payday 3 su PC dovete conoscere sicuramente i requisiti di sistema, minimi e consigliati. In entrambi i casi vi serviranno 65 GB di spazio libero sul disco. Potete leggere tutte le info a schermo. Payday 3 è disponibile in diverse versioni. Eccole di seguito. Al prezzo di 39,99€ la Standard Edition contiene il gioco completo. Per quanto riguarda le edizioni speciali che richiamano anche i single pass già citati, abbiamo la Silver Edition a 69,99€ che contiene svariati elementi che vi lasciamo a schermo e la Gold Edition a 89,99€ che amplia ulteriormente la proposta di elementi bonus. In tutte queste edizioni otterrete oggetti bonus con il preordine. Infine abbiamo una Day One Edition a 40,98€ e una Collector Edition a 129,98€, le uniche a contenere l'edizione fisica del gioco. Il gioco uscirà ufficialmente il 21 settembre 2023 su PC, Xbox serie X ed S e PS5. Tuttavia è possibile giocare in anticipo ma dovete aver acquistato la Silver o la Gold Edition. In questo caso potete iniziare a giocarlo dal 18 settembre 2023. Payday 3 è localizzato in italiano ma non doppiato nella nostra lingua. Anche questo video giunge come sempre al termine. Noi vi ringraziamo per la visione, lasciate un like, iscrivetevi con la campanella attiva e commentate per farci sapere cosa ne pensate di Payday 3. Un saluto ragazzi e come sempre alla prossima!